Nuovo video, nuovo unboxing. Vediamo cosa abbiamo ordinato per il Museo Traviale di Sumo. Allora, i pacchi sono molto simili, quindi potrete già immaginare a quelli dei video precedenti. Allora, qui la scatola ha subito un trauma da viaggio. Allora, l'imballo del solito col pluriball, la scatola ha subito, è un'altra locomotiva della LED Bricks. Vediamo come si presenta dentro, credo che sarà molto simile alle altre, cerchiamo di capire un attimino. Istruzioni, lettera di ringraziamento, building kit con appunto la pinza, la leva per scollegare i pezzi e una dima per vedere la lunghezza dei pezzi. E tutti i pezzi raccolti in vari sacchettini e con un unico sacchetto. Come vedete, è un modello statico, non motorizzato, non escludiamo il domani di motorizzarlo. Faremo dei video man mano che lo montiamo e scoprirete solo alla fine di questo video che modello di locomotiva è. A dopo. Grazie a tutti. Allora, abbiamo completato il montaggio della nostra terza locomotiva della LED Bricks. Cosa possiamo dire? Pregi e difetti. Allora, sono avanzati molti meno pezzi dell'altra volta, quindi era più accurata la scena tra i pezzi. Abbiamo, mancava un pezzo solo, in realtà era un pezzo da autostude che era stato sostituito con due da quattro. Non facile da capire, fino a che non si arriva alla fine, insomma. Istruzioni sempre con QR code, molto facili, molto veloci. Questo è un modello molto veloce da montare, non è complicato, non ha grandi parti complicate o in movimento. L'unica parte in movimento sono i carrelli, tutto il resto sono parti fisse. È un modello folle in questo momento, quindi vuol dire privo di motore. In questo momento è così come l'abbiamo montato, un domani potremmo anche pensare di provare a motorizzarlo. E cosa ci è piaciuto? Ci piace molto il colore, un bel verde, le righe blu, insomma rispecchia quello che è il modello della realtà, che è una delle macchine, anzi forse è la macchina più comune in questo momento anche sulle nostre ferrovie italiane. Molto carini anche le spingenti con il gancio automatico, il dietro bello con il suo mantice d'accoppiamento. Carini anche i pantografi, molto delicati, ma a descapito della delicatezza dei pantografi, la restante parte della macchina è una macchina molto robusta. Non è una macchina che si deve maneggiare con estrema cura perché magari si staccano i pezzi. L'unico difetto è che differenti pezzi, cioè forme, ad esempio questa parte liscia rispetto a questa qua inclinata, hanno leggerissime tonalità di verde differente. Questa è un po' più lucida, un po' più chiara, queste sono leggermente più scuro, però diciamo che è una cosa non eccessivamente percettibile. Nell'insieme è una macchina molto bella, molto facile da montare. Io consiglio questa macchina se uno si avvicina al montaggio di vitrine tipo Lego, diciamo tipo perché come abbiamo già detto all'inizio, la marca è una Lightbricks totalmente compatibile a quei pezzi Lego perché è molto facile, molto robusta e comunque bella, grande impatto. Sarà presto visibile presso il Museo Ferroviario di Sono. A presto! Grazie! Grazie! Grazie!